Lo zenzero può rivelarsi un valido aiuto nella lotta contro la glicemia alta. La glicemia alta porta tutta una serie di scompensi fisici che possono sconfinare nel diabete. Il diabete è una pericolosa patologia che una volta subentrata va curata con un'alimentazione adatta e l'uso di farmaci che variano da persona a persona. A volte però la soluzione può arrivare ad alcuni rimedi naturali. Un esempio è lo zenzero. Lo zenzero è un avimento ricco di proprietà benefiche e che tra tante vanta quella di ridurre i livelli di zucchero nel sangue. Assumero delle zenzero ogni giorno riduce i livelli di zuccheri nel sangue abbassando la glicemia. A decretarlo è stato uno studio condotto dall'università di Sydney. Dallo stesso studio è infatti emerso che consumare zenzero inalzi la qualità di zucchero che viene assorbita dai muscoli. Promuovendone così il mantenimento di livelli piuttosto bassi nel sangue. Un effetto che si deve ai gingeroli, ovvero alle molecole che si trovano all'interno del fiore delle zenzero. Ma come si assume lo zenzero? Trattandosi di un alimento che deve essere ruolo di una spezia, inserirlo nei vari pasti è piuttosto semplice. Una spolverata di polvere di zenzero supprime i secondi o contorni e si sarà già consumata una dose di questo alimento. Anche una tisana a fine pasto può essere la soluzione ideale favorendo anche la digestione. In alternativa esistono tisane già pronte a base di solo zenzero o combinato con altri alimenti come il miele o curcuma. C'è una tisana a fine pasto della tua vita.